Il telefono di Maurizio Zamparini scotta, Ilya Nestorovski è già sulla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Il Macedone è uno di quei giocatori che fa gola al club artenopeo, un attaccante che ha il fiuto del gol, lo confermano i suoi numeri. In Serie A, 7 gol in 13 presenze, come lui in questa stagione, attaccanti del calibro di Higuain e Cajihon. Un inizio davvero bomber per la punta classe 90 che lo scorso anno in Croazia con l'Inter Zaprasic ha portato a casa il titolo di capocannoniere, segnando 25 reti in campionato. Il 26N Macedone farebbe comodo agli azzuri già da gennaio, Gabbiadini infatti non convince con le sue prestazioni e Milik è ancora fermo ai boss. Il Palermo si conferma quindi una delle grandi fucine di talenti in Serie A, soprattutto nel reparto avanzato. Il club rosanero negli ultimi sei anni è stato la gioielleria di fiducia di molte società. Ha cresciuto e plasmato talenti, attaccanti come Paolo Di Bala, passato alla Juve per 32 milioni e non a caso soprannominato alla Coglia. Poi Franco Vasquez, ora in forza al Siviglia, e Andrea Belotti, attuale capocannoniere della Serie A, a quota 10 gol in 11 presenze nel Torino di Sinisa Mijajic. E ancora, Adier Pastore, centrocampista numero 10 del Parisa Germain. E per finire un certo Edinson Cavani, che da ex Palermo, proprio a Napoli ha scritto pagine di storia. E la storia, si sa, si ripete, in casa Zamparini.